Stop alla colonizzazione selvaggia del nostro territorio da parte dei giganti del fotovoltaico. Questa volta siamo pronti alle barricate contro un nuovo impianto che minaccia di divorare una vasta fetta di terra del Parco del Negro Amaro, tra Campi Salentina, Cellino San Marco e Squinzano, proprio dove inizia la murgia salentina e i vigneti esprimono la parte migliore, dando vita a vini importanti per grandi marchi di numerose cantine italiane. Daremo battaglia per difendere la nostra terra. Così il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo della Puglia Domani e presidente del Movimento Regione Salento, insieme a Damiano Reale, presidente del Consorzio Salice Salentino, Angelo Maci, presidente del Consorzio dei Vini Doc Brindisi e Squinzano e Mauro Di Maggio, presidente del Consorzio del Primitivo di Manduria. Già da tempo, rivendica Pagliaro, siamo in prima linea per bloccare nuove autorizzazioni all'installazione di campi fotovoltaici. Su nostra richiesta si è tenuta a fine gennaio una prima audizione in Commissione Agricoltura del Consiglio regionale, da cui è emersa la volontà, condivisa con il mondo accademico, gli ambientalisti e molta parte del territorio, di alzare le barricate contro questa vera e propria invasione di pannelli solari nelle campagne del Salento. E abbiamo già richiesto una seconda audizione, stavolta congiunta con la Commissione Ambiente, per passare alla fase 2, la definizione delle modifiche da apportare al PEAR, il Piano Energetico Ambientale della Regione, per fissare paletti invalicabili contro la minaccia di nuovi insediamenti di impianti fotovoltaici ed eolici. Dobbiamo fermare l'avanzata delle lobby delle finte energie pulite, che stanno approfittando del disastro Xilella per accaparrarsi i nostri terreni, e vogliamo smascherare la farsa dell'agrofotovoltaico, perché i nostri vigneti non possono produrre sotto le strutture fotovoltaiche, sottolineano Reale, Maci e Di Maggio. Le nostre terre, dicono, sono ricche di storia vitivinicola e hanno nel lungo tempo portato avanti la tradizione della vigna con amore e dedizione, invitando clienti ed esportatori esteri a guardare dal vivo le lunghe distese di terra coltivate e lavorate con fatica e sudore e mantenendo viva la storicità del territorio. Per la promozione del territorio salentino colpito da Xilella, sono stati stanziati, con un progetto del MIPAF presentato dal distretto agroalimentare Ionico Salentino, ben 98 milioni di euro, di cui 62 a fondo perduto. Di questi, 3 milioni sono stati affidati ai consorsi di tutela per promuovere il territorio salentino. Con una mano si punta a riqualificare l'immagine del territorio del vino e dell'olio, con l'altra si autorizzano le lobby del fotovoltaico a distruggere il Salento. Questa volta, concludono, faremo le barricate e inviteremo i produttori a scendere in campo.